È stato ucciso a 23 anni davanti alla fidanzata incinta di 8 mesi. Carmine Donofrio sarebbe stato vittima di un omicidio deciso ed eseguito dal clan demico di Ponticelli per due motivi. Per vendetta, perché il giovane era stato identificato dal gruppo criminale come responsabile della bomba messa davanti all'abitazione del boss e per commettere un assassino dall'alto valore simbolico, visto che il ragazzo, fino ad allora ritenuto estraneo a dinamiche di camorra, era il figlio illegittimo del fratello del boss Antonio De Luca Bossa, Tonino Sicco, capoclaner gastolano, rivale ai De Micco. È quello che hanno ricostruito gli inquirenti, che hanno emesso un decreto di fermo per sei persone, tutte ritenute vicine al clan demico, tra queste anche Marco De Micco, Il Bodo, il capoclan scarcerato un anno fa. Il provvedimento è arrivato nell'ambito delle indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, che è stato eseguito dalla squadra mobile della Questura di Napoli. Carmine Donofri è stato ammazzato nella notte del 6 ottobre scorso in via Luigi Crisconio. Civico 51, davanti alla sua abitazione, era appena tornato a casa insieme alla fidanzata, di 20 anni incinta, all'ottavo mese di gravidanza. Ecco про un для Tecno di Napoli,